basta no non chieda che ne ho adesso dopo faccio l'acqua beh dopo però comunque è bella ragazzi e benvenuti benvenuti in questo nuovo video oggi siamo su Akinator cazzo mi rompi il mouse wireless mortacci tua ma c'è non ti preoccupi che mi faccio male io ti rompo il mouse alla sei proprio una merda ciao a tutti ragazzi e bentornati qui sul mio canale e benvenuti in questo nuovo video oggi è orato questo nuovo video oggi è orato ciao a tutti ragazzi e bentornati qui e benvenuti in questo nuovo video parca duro ballate l'intro e benvenuti in questo video anima oggi siamo qui con un cereale vabbè il dato positivo c'è adesso posso aggiungere degli extra tag anima comunque bella ragazzi per i dati qui sul mio canale finalmente forse ce la facciamo siamo tornati con un nuovo video che per la verità ho dovuto fare già un bel po' di tempo fa perché il bomber sergio milano mi ha inviato una una foto che praticamente testimoniava che lui mi ha trovato su Akinator quindi allora oggi siamo qui assieme ad anima perché ormai è diventato lui anima e benvenuti in questo nuovo video con Federico Marconi me l'avete chiesto in tanti io ho levato gli iscritti e adesso al momento ce ne hanno 3.292 non vi dirò però in questo video perché ho levato gli iscritti così vi lascio un po' di suspense e se però volete saperlo a tutti i costi me lo chiederete più avanti no spinta su gioca per iniziare e allora informazioni giocatore età 16 gioca era fondamentale l'età domanda numero 1 il suo personaggio è italiano? si ma sono giapponese allora io ti avevo già detto di non comparire nei miei video e stai zitto? adesso ti impossessi anche di questo coglione? il suo personaggio indovina perso ma che cazzo vuol dire? attenzione ha trovato anima cioè ci ha avuto talmente tanti indizi per trovare anima mi ha trovato? è vero ha trovato lui io devo capire come ha fatto ah si è vero perché abbiamo messo tutti gli indizi con me tu stai sempre con me quindi andiamo avanti no continuare assolutamente si Sergio poi mi devi dire come hai fatto a trovarmi allora no non parli ah no però faccio video ma non parlo è giusto il resto sono umano ma non parlo ho ucciso Mufasa Mufasa attenzione ragazzi ci siamo quasi il suo personaggio è famoso no sei un coglione ma è vero eh però non c'è che è un coglione qua ma che metto? mettiamo probabilmente? si vai si? fa più divertenti anche mettiamo probabilmente ha realizzato un gameplay su c5 si attenzione miti e misteri no non sono adam no no come il pancione aspetta eh no no si attenzione ci siamo quasi viene chiamato col suo nome e cognome si attenzione Federico Macari Federico Macari è un coglione sul telefono mio che vita di merda ragazzi ci siamo trovati incredibile incredibile grande Sergio che me l'ha detto io con ben 6 mesi di ritardo ho fatto sto video tra l'altro l'ultima volta ha indovinato il 28 ottobre quindi due giorni fa mi hanno indovinato ah cab e attenzione ragazzi perché aggiungi domanda ripeto col suo ragione meno aggiusto allora io ho provato ad aggiungere l'immagine ma non me la fa aggiungere perché mi dice che il formato non va bene quindi se qualcuno di voi lo sa visto che è talmente gentile questa applicazione che neanche mi dice quale formato va messo e quindi voi nei commenti ditemi quale formato ci serve adesso cerchiamo Erna no adesso lo cerchiamo veramente dai Erna si grazie a Youtube modo di videogiochi io a Torino ancora lo so a PJ ma chi è? ha distrutto qualcosa non è anima ha chiesto qualcosa a San Gennaro anche mettiamo non lo so ancora? no non fa parte vero non è c'ha che fare io comunque dico no è del sud Italia sì che cosa? ha che fare con le memorie per computer sì vabbè sicuro è diversi perché venezia nel sud Italia ragazzi studiate geografia proprio l'ha trovato ha trovato Frenake così a caso Frenake lui ci trova Frenake bella foto l'altro che hanno messo ah la foto deve essere così anche ecco perché non me la trovava al minorenne sì attenzione attenzione lavoravano anche i fornelli non lo so ma siamo lì cramorosi ha segnato un dol decisivo sì sul pro club è snello? sì a che fare con Dexter a che lo stai vivendo aspetta il C2 ai baffi no non è brazzo no c'entra brazzo a che fare con Tag Life no sì anche probabilmente siamo comunque al massimo alla pinna attenzione vive nel Lazio no no io no ragazzi niente abbiamo perso ancora la speranza è romano ma se non vive nel Lazio a un fratello si si ha un fratello mister abbra sexy andrea 00 youtuber italiano con due iscritti probabilmente cioè si è messo da solo tu dai erramo di trova Zoda così a caso non c'è il personaggio non è nella lista e allora signori non c'ha trovato erna erna fastidio oh erna il nostro ha un cappello erna è un porno di Dexter e adesso facciamo un'ultima volta e dovvino chi cerchiamo chi cerchiamo meh e allora ragazzi giunge al termine questo ma dove quindi ragazzi il video giunge al termine spero che vi sia piaciuto come so che vi salta lasciare un like se così è stato basta il mio iscritto e ne verrà tutti i link noi ci becchiamo con i prossimi video è bella ragazzi mi dici come faccio ad avere un coglione di cugino come lui bella ciao 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 ciao